raga io richiedo controllo del bar secondo me ruba sono tre partiti che arriva alla fine con A su tre R voglio otto gusti ma già c'è il diabeta alle stelle aggiornamento 3 a 1 per il geppetto per geppetto eccolo qua il becchietto 3 a 1 per lui rimontata da 3 a 0 già siamo 3 a 1 questa sarà 3 a 2 vi tengo aggiornati raga aggiornamento 4 a 1 per il vecchio 4 a 1 per il vecchio abbiamo fatto pure presto e mentre Lorenzo le prende a carte dal suocero Claudia fa queste prove video con la mamma comunque in famiglia sono tutti simpatici davvero tutti grazie a tutti grazie a tutti